In questo video faremo quello che sappiamo fare meglio, cioè cercare informazioni, verificarle, metterle insieme e poi in relazione le une con le altre, tutto ovviamente filtrato da me. E questo filtrato da me, per una storia come quella del conflitto israelo palestinese, sarà motivo di extra scrutinio delle cose che dirò, perché si cercherà di capire da che parte io stia. Quindi ve lo dico prima, così ci togliamo ogni dubbio. Normalmente si direbbe, per sottolineare la mia posizione, che io non stia né con gli uni né con gli altri. Ma non è vero, perché questo presupporrebbe una situazione emotivamente piatta o superiore agli eventi. Io mi sento tutto fuorché distaccato, quindi fatemi essere sincero. Personalmente in questa storia odio tutti e disprezzo tutti. Odio le persone, odio le ideologie, odio le azioni. Non ho simpatia per Israele e il trattamento riservato in questi anni alla popolazione della striscia di Gaza all'agire sempre come se si fosse in qualche modo moralmente superiore ai palestinesi, all'ideologia e all'estremismo religioso sotteso a questa visione del mondo. E non mi piace quello che è stato fatto di Gaza, che è divenuta una prigione a cielo aperto e un incubatore di disagio. Non mi piace la politica incentrata sullo scontro con un altro popolo e in generale non mi piacciono i sopprusi. Allo stesso modo, e qui sarebbe banale dirlo, non ho simpatia per i terroristi, qualsiasi siano le loro ragioni. Ma non solo per i loro modi, disprezzo l'ideologia, come per quanto riguarda Israele infatti disprezzo il fondamentalismo religioso, quindi anche quello islamico, e ho solo pena per chi esulti per la morte di qualcun altro. Trovo Hamas un'organizzazione peggiore delle nostre peggiori mafie e provo per loro lo stesso disgusto, quindi pensate con quanta simpatia io possa registrare le simpatie di parte dell'opinione pubblica italiana ai loro confronti. Ho visto un sacco di video in questi giorni, tanti mi hanno fatto malissimo, ma forse i peggiori che parlano di questo fondamentalismo sono i linciaggi. Il linciaggi che significa non semplicemente io uccido un nemico e sono contento per la sua morte, ma tiro giù insieme a un mucchio di persone, qualcuno che è magari nudo, magari con i polsi legati, magari già svenuto, lo tiro giù da un camion e poi tante persone, io contro tanti altri, lottiamo tra di noi, sgomitiamo per cercare di dargli un calcio, un essere corresponsabili della morte di quella persona lì, tanto è l'odio che provo nei confronti di quell'essere umano che evidentemente non vedo come un essere umano. Quello è un po' il simbolo del disprezzo che questi individui sono riusciti a farmi provare nei loro confronti. Quello che sta accadendo in queste ore è il fallimento del sistema liberal democratico che sino oggi si è raccontato delle storielle alle quali ho abboccato anche io in passato perché ero giovane e non avevo gli strumenti. L'idea cioè che un conflitto che si muove su basi etniche e religiose, con due ideologie religiose avversarie che si contendono dei territori, peraltro sacri, e che si tramanda da genitori a figli, si autoavvera a forza di violenze e di prevaricazioni, possa concludersi così, solo perché lo si vuole fortissimo. Ma non può evidentemente succedere, no? È chiaro. Quello che può accadere, ed è accaduto, è che il conflitto è stato congelato dall'alto, da una superpotenza, dagli Stati Uniti, con ciò che questo comporta nell'opinione pubblica locale e internazionale. Ed è proseguito quindi a bassa intensità, in tantissimi episodi crudeli che lo hanno tenuto vivo. E poi dopo un po' si è riacceso. Potremmo quindi discutere per sempre su chi abbia le responsabilità storiche, fattuali, recenti, politiche. Quello che vi pare. Lo abbiamo fatto con Russia e Ucraina per cose che risalivano al Medioevo, figuratevi se non possiamo farlo per 80 anni di storia recente. Ma quello che dobbiamo anche dirci è che oggi ci sono due livelli ai quali si scontrano diversi interessi e diverse visioni. Il primo livello, quello più in basso, sono le persone, e ci metto dentro tutti, dai civili ai militari, dai terroristi ai bambini. Tutti questi individui hanno, dal loro punto di vista, ragione. È nel realistico pensare che molti di loro credano nei motivi che li portano a dire degli altri, siano questi ideologici, religiosi, razzisti, personali, indettati dal degrado, dalla mancanza di istruzione, dall'incomunicabilità, da racconti che sono stati fatti loro e da cose che hanno visto. Senza quel tipo di odio, senza il racconto del diverso, la deumanizzazione dell'altro, non solo è complesso andare in guerra, ma certa violenza, certi livelli di violenza diventerebbero impossibili. Sopra questo livello ovviamente ci sono tantissimi interessi contrastanti, dalle alleanze politiche all'interesse di destabilizzare una zona, sino anche ai mitici interessi economici, quelli che poi ci sono sempre e che citare non ci rende più intelligenti, quindi. Ecco, a quel livello a nessuno frega nulla dell'odio, del degrado, della paura, delle motivazioni ideologiche. E mischiare questi due elementi non ha senso, ma anche ignorare le ragioni che portano gli individui a fare certe scelte non ne ha. E anzi ci ha portato dove siamo ora, a un divasto pubblico sclerotico che non sa fare differenze, non riesce a dimedesimarsi e tratta argomenti tragici come fossero risico. E banalmente i ragazzi morti in queste ore, presenti a Rave, del quale parleremo tra poco, che è stato uno dei teatri più sanguinosi del weekend, erano lì per un Rave e con ogni probabilità, vista le giovani età, si interessano agli argomenti geopolitici più o meno come se ne interessa chiunque a quell'età. Cioè, niente non gliene fregava, niente, e sono comunque morti a centinaia. Quindi, da che parte sto, decidetelo voi, a me non importa. Quello che voglio fare, che faremo, è mettere in ordine le cose, dal loro senso, dal loro contesto, e poi sul tipo per la squadra del cuore ognuno di noi si farà il fantacalcio di intellettuali opinionisti. Ma lasciatemi fuori dal giochino e lasciamoci fuori Breaking Italy. Iniziamo quindi a parlare di cosa è successo. E per farlo, partiamo dall'inizio. Sabato mattina, l'organizzazione terroristica di Hamas, un movimento estremista politico religioso che controlla il territorio della striscia di Gaza, l'esclave palestinese, ha sferrato un attacco a Israele di tale violenza e organizzazione da essere senza precedenti. Parliamo di più di un migliaio di vittime, molte delle quali civili. Attacco a cui Israele ha risposto dichiarando lo stato di guerra e facendo precipitare la regione nella più grave instabilità da molti anni a questa parte. La prima cosa che è importante chiarire è cosa sia veramente Hamas. Si tratta di un movimento di militanza, sia religiosa che politica, che domina sulla striscia di Gaza, ci arriviamo tra poco, il cui nome completo si traduce all'incirca con Movimento Islamico di Resistenza. Parliamo sostanzialmente di un'organizzazione di fede sunnita che ha un impianto fortemente nazionalista e soprattutto fondamentalista, che non riconosce Israele come stato e che negli anni ha combattuto varie volte per la causa palestinese, usando dei metodi ritenuti talmente brutali da farle includere nelle organizzazioni terroristiche di buona parte dell'Occidente, Stati Uniti, Regno Unito, Unione Europea ma non solo, mentre un'altra fetta di mondo non la riconosce come tale, e parliamo di varie nazioni arabe, da sempre ostile Israele, ma anche di Russia e Cina. Altro punto importantissimo è il fatto che Hamas non rappresenti l'interezza della popolazione palestinese, anzi, perché il suo controllo è limitato alla striscia di Gaza, il piccolissimo territorio incuneato ad ovest, tra Israele ed Egitto. Per capirci parliamo di 360 chilometri quadrati, quasi un quarto dell'estensione del comune di Roma, ma con una popolazione paragonabile, perché con più di 2.300.000 abitanti è non molto inferiore a quella della nostra capitale. Immaginate, quindi, sono tutti stretti là dentro, in una situazione di povertà assoluta. Hamas domina sulla striscia dal 2007, quando prese il potere strappandolo a Fatah, l'altra faccia della politica palestinese, un partito più moderato, con a capo la figura di Mahmoud Abbas, conosciuto anche come Abu Mazen, che riconosce invece Israele come stato e che domina sulla Cisgiordania, che si trova qui. Vi risparmio sia le lotte politiche interne tra le due fazioni, che sono molto importanti, sia il modo in cui Gaza è divenuta quello che è oggi. Non abbiamo veramente il tempo per approfondire e per comprendere quello che sta succedendo, basti sapere che si tratta di un territorio a lungo conteso, soggetto negli anni prima a una colonizzazione israeliana, terminata nel 2005, e poi a un forte embargo sempre da Israele, che è la circondata di recinzioni che hanno poi lasciato la striscia esalta sia economicamente che materialmente, cosa che unita alla sua elevata densità di popolazione, rappresenta un enorme problema umanitario. In queste condizioni, in cui nulla di buono può accadere dal punto di vista produttivo e umano, visto che sei chiuso dentro, letteralmente dipendente in tutto e per tutto da altri, senza sbocchi lavorativi di crescita, senza alcun orizzonte, Hamas si è molto rafforzata, esercitando un potere che a me ricorda molto quello delle organizzazioni criminali, il modo in cui presidano i territori, controllando tutto e legando a sé ai loro affari, con dinamiche da una parte di benefattori, dall'altra di ricatto, tutta la forza lavoro esistente. Con queste premesse arriviamo al dunque. Nella mattina di sabato Hamas ha lanciato un violento attacco via aria, via mare e via terra verso Israele, con migliaia di missili, 5.000 secondo Hamas, poco più di 2.000 secondo le IDF, le forze di difesa israeliane, che hanno colpito nelle ore successive varie città nord di Gaza, compresa Tel Aviv e Gerusalemme. Attacchi peraltro ancora in corso, mentre parlo, e che sono stati accompagnati anche da un attacco via terra da parte dei militanti, un fatto sostanzialmente impensabile sino a poco tempo fa, che ha portato a un'infiltrazione da parte dei combattenti di Hamas in più di 20 città e basi militari vicine a Gaza, portando nel corso delle ore a una strage di civili israeliani, che non ha paragoni nella storia recente. Non starò a descrivere gli orrori che sono poi trappalati da molti dei video che abbiamo avuto modo di visionare, video che non vi mostrerò, ma che evidenziano decine e decine e decine di cadaveri abbandonati nelle strade. Sono state molto condivise, ad esempio, le immagini nella città di Sderot, che a me sinceramente hanno un po' ricordato le prime fasi del conflitto in Ucraina, gli orrori di buccia, quel tipo veramente di orrore della realtà. Video difficili. Come esempio tra tutti, anche per darvi un'idea dell'incubo di quelle prime ore, vale la pena citare come esempio tra tutti quello del festival supernova di cui si è parlato all'inizio, cioè un rave party che si svolgeva vicinissimo al confine qui, in concomitanza con la festa ebraica di Sukkot, che ricorda l'esodo del popolo ebraico. E non era quindi, come si è detto, una sorta di festa di fratellanza tra i due popoli. Questa cosa la ribadiamo, eh. Non era, come si è detto, un festival in cui i sinistri andravano a festeggiare i palestinesi che gli sparavano addosso. Non è quella roba là. È una festa ebraica. Era un rave che viene fatto in concomitanza con una festa religiosa. Non quello che si è detto. Cioè, chiaro no? Al netto di questo però l'orrore. Il rave è stato direttamente attaccato dai militanti di Hamas, arrivati via terra, ma anche via aria, con dei parapendi a motore, e hanno poi cominciato a sparare direttamente ai ragazzi di presenti. Per ora si parla di 260 morti. Anche a rapire molti di loro. E sul tema dei rapimenti ci torniamo tra poco, perché è una parentesi molto importante del conflitto. Però di nuovo, si è trattato di una strage deliberata e ricercata. E fanno impressione i video dei giovani che scappano a centinaia nel deserto per sfuggire all'attacco dei miliziani. Ultimo punto su cui è importante soffermarsi prima di vedere la reazione di Israele sono proprio i rapimenti. Perché è una parte estremamente importante dell'operazione, che si è focalizzata nel prendere e portare indietro con la forza verso Gaza una grande quantità di ostaggi. Hamas parla di almeno 100 persone, molte fonti circano numeri sulle dozzine, ma sono cittadini israeliani e di altre nazionalità, rapiti con l'obiettivo di essere poi usati come merce di scambio, ad esempio per la liberazione di prigionieri palestinesi, che è una dinamica ben nota. Di nuovo, vi risparmio i video, ho le descrizioni di molti di questi rapimenti, di cui esistono purtroppo molte testimonianze. Parliamo sia di gente molto giovane, spesso anche donne, con bambini piccolissimi, ma anche persone molto anziane, che in qualche caso non sembrano avere idea di quello che sta accadendo loro e vengono portate in giro come delle sorte di trofei. Di nuovo, video umanamente difficili, e faccio questo lavoro da un sacco di tempo, però... Questi rapimenti, attenzione, complicano parecchio la risposta di Israele, che è stata in realtà molto veloce e molto diretta. Fate conto che il primo ministro Netanyahu non ha esitato, già nelle prime ore dell'attacco, a dichiarare come il paese fosse entrato in uno stato di guerra formale, e sin da subito sono stati richiamati in servizio ai riservisti, ed è stato lanciato un attacco aereo da parte di decine di aerei delle IDF verso la Striscia. Di nuovo, un quarto di Roma, quindi immaginate se un quarto della capitale fosse bombardato per due giorni di fila. Ha fatto molto scalpore in questo contesto l'abbattimento di un altro edificio nella Striscia, avvenuto peraltro in diretta, esiste un video di Al Jazeera che testimonia il momento, e Netanyahu ha invitato tutti i palestinesi dalla Striscia ad andarsene, perché tutti i siti in cui si nasconde Hamas sarebbero stati trasformati in macerie. Che è una frase che rappresenta quanto propagandistica e vuote siano le parole del primo ministro, visto che il confine con Gaza è completamente sotto il controllo dell'esercito israeliano, e le persone non possono andare proprio da nessuna parte. Fatto che renderà un'eventuale offensiva di terra molto complicata da gestire, perché nella Striscia di Gaza, l'abbiamo già detto due volte, ci sono due milioni di persone. Due milioni. Dalla giornata di ieri a quella di oggi, comunque, Israele ha proseguito nel respingere attivamente i militanti di Hamas, con le operazioni volte a riguadagnare il controllo della situazione e dei territori invasi, che dovrebbero, secondo le stime, richiedere ancora delle ore, spese anche nell'evacuazione di tutte le zone limitrofe alla Striscia. Realisticamente, nei prossimi giorni, dopo che le infiltrazioni in territorio israeliano saranno state completamente respinte, avremo un'idea molto più precisa di che direzione prenderà il conflitto. Ma, attenzione, fate conto che parliamo di un evento che traccia una linea che non sarà possibile ignorare, sia per il numero di vittime, dato che si sta parlando di 11 settembre israeliano, per il numero di morti, sia per il forte simbolismo del gesto, il fortissimo simbolismo che è molto importante a livello culturale, estremamente importante. L'attacco, infatti, avviene a un giorno di distanza dal cinquantesimo anniversario della guerra dello Yom Kippur, che nel 73 vide una coalizione araba attaccare Israele, rischiando di averla meglio, momento che per il mondo arabo segnò in qualche modo una rivalsa nei conflutti del tanto odiato Israele, e momento che, di nuovo, fu congelato dall'era superpotenza del mondo, dagli Stati Uniti e dall'Unione Sovietica. Ma le cose sono cambiate. L'Unione Sovietica non esiste più, la Russia è diventata una cosa diversa, e gli Stati Uniti sono in difficoltà su tanti fronti esteri, ragion per cui, per capire ancora meglio cosa succede, bisogna osservare come gli Stati del mondo stanno reagendo in queste ore a questo 11 settembre israeliano. Come base possiamo notare come la condanna, per quanto non propriamente unanime, e adesso ci arriviamo, sia stata molto più decisa del solito, a cominciare dal nostro paese, da Mattarella alla Premier Giorgia Meloni, che in una conversazione telefonica con il Presidente Netanyahu ha espresso la sua vicinanza a Israele e la piena solidarietà del governo italiano. Ed è più o meno la linea di molti altri paesi europei, dalla Francia alla Germania alla Polonia, passando per il Regno Unito. E devo dire che è stato in qualche modo toccante vedere anche le espressioni estetiche di questa solidarietà, con i colori israeliani proiettati sugli edifici, come è diventato consuetudine a fare da qualche anno, anche se per ovvie ragioni la bandiera israeliana è diventata molto più che il semplice simbolo di un popolo, no? C'è un valore politico attaccato sopra, come a quella palestinese del resto. E quindi mi ha colpito l'effetto diverso di questa scelta, anzi, la reazione diversa rispetto a quando abbiamo visto la bandiera ucraina proiettata sui palazzi del potere. Ovvia condanna e solidarietà è arrivata anche dagli Stati Uniti, che hanno annunciato un ulteriore sostegno militare e logistico a Israele, che nello specifico si traducono in una porta aerei, incrociatori e anche aerei da combattimento pronti da inviare in loco. Un ruolo che tiene conto delle promesse fatte dalla stessa amministrazione Biden per definire ancora di più la posizione degli Stati Uniti e manifestare la sua vicinanza a Israele e condannare le azioni di Hamas. Non tutti, però, sono inclini a manifestare condanna agli attacchi e in questo senso far riflettere come la posizione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, riunitosi in emergenza nelle scorse ore, non abbia raggiunto l'unanimità necessaria per effettuare una dichiarazione congiunta da parte di tutti i membri del Consiglio, che è incredibile. Contate che gli Stati Uniti non si sono nemmeno messi problemi a suggerire come uno dei paesi che in qualche modo si sia messo di traverso sia stata la Russia, che ci racconta ancora di più una volta come esista ormai questa frattura tra l'Occidente e tutto il resto. Nemmeno su un attacco terroristico ci si mette d'accordo, è incredibile. In generale sono diversi paesi che nelle loro dichiarazioni hanno abbracciato volentieri la linea del generico cessate il fuoco piuttosto che condannare gli attacchi. E parliamo, senza sorprese, della Cina, che in un comunicato del Ministro degli Esteri ha invitato entrambe le parti coinvolte nel conflitto a mantenere la calma, tenendo quell'ambiguità che ha contraddistinto Pechino anche nel conflitto in Ucraina. Ma il punto è che non possiamo analizzare solo cosa abbiano detto l'Occidente, la Russia e la Cina, perché le implicazioni riguardano anche e soprattutto il mondo arabo. In questo senso troviamo le dichiarazioni di condanna contro gli attacchi dei civili del Marocco e l'invito alla cessazione di ogni tipo di violenza da parte invece di Arabia Saudita e dei Emirati Arabi, espresse quindi senza prendere posizione. Che è però di per sé una scelta che senz'altro potrebbe inficiare sulla diplomazia futura tra lo Stato di Israele e il mondo arabo, soprattutto a fronte dei passi in avanti degli ultimi anni nell'ottica della cosiddetta normalizzazione dei rapporti partita con gli Accordi di Abramo, nati come svolta diplomatica tra Emirati, Bahrain e appunto Israele, e poi esteso con l'obiettivo di rafforzare il fronte contro l'Iran, che è la grande altra questione sul tavolo, l'Iran. A seguito dell'attacco, l'Iran, da sempre considerato vicino ad Hamas, per quanto con molte tensioni per il fatto che l'Iran è sciita mentre Hamas è sunnita, ha voluto stolineare la sua vicinanza ai palestinesi per la liberazione di Gerusalemme, congratulandosi con i miliziani per gli attacchi. Una situazione quindi tesa ma non inaspettata, visto che il conflitto tra Iran e Israele va avanti da decenni, con Teheran che ha in passato più volte supportato militarmente sia Hamas che anche le forze libanesi a Zbollah, degli sforzi per destabilizzare Israele, tanto che si sospetta che anche dietro quest'attacco ci sia l'intelligenza iraniana. E nonostante questo Teheran ha completamente negato il suo coinvolgimento. Anche perché, ovvio, se saltasse fuori che l'Iran è dietro quest'attacco, un attacco in cui sono morte anche persone turistiche occidentali, questa è un bel casino. Quindi, nel senso, congratulazioni per aver attaccato ma noi non c'entriamo niente, che ovviamente è la strategia migliore, perlomeno sin che non ti beccano. Se quindi, come dicevamo, è difficile capire la traiettoria del conflitto, ancora più importante sarà scoprire quanto alto sia il rischio di contagio ad altre forze regionali, perché è quello il punto. Tra Gaza e Israele parliamo, infatti, di circa 12 milioni di persone. Finché le cose stanno così, è comunque un conflitto piccolo nei suoi volumi, ma con un rischio di rappresentare un simbolo, oppure un'opportunità, è trasformarsi in un pretesto per tanti altri per riscrivere gli equilibri. Nel momento in cui sto registrando, si stanno verificando ancora attacchi aeree israeliani, con Gaza che è lasciata al suo destino senza cibo, elettricità e carburante, 2 milioni di persone, così senza niente, chissà cosa potrebbe andare storto. E oltre il pericolo crisi umanitaria ci sono tutte le conseguenze in qualche modo indirette, che conosciamo molto bene perché lo stesso copione lo si è visto negli anni 70 dopo la guerra di Yom Kippur. Ad esempio potrebbero esserci repercussioni sul costo dell'energia, sul petrolio, con i prezzi che in queste ore sono effettivamente un po' aumentati. E c'è poi il discorso fronti aperti anche nel mondo dell'informazione. Una nuova guerra alle porte rischia fisiologicamente di far dimenticare quella che si sta combattendo da più di un anno sul fronte ucraino, con conseguenze potenzialmente disastrose, perché senza attenzione dell'opinione pubblica le cose vanno velocemente a deteriorarsi nel dimenticatoio. In tal senso gli Stati Uniti stanno attualmente prestando supporto militare in entrambe le zone di guerra, con la Casa Bianca che garantisce che questo non influenzerà gli aiuti a Kiev, che però sappiamo il congresso sta già mettendo in discussione. E in generale meno di una cosa si parla, più aumentano gli spazi di manovra per ritirare fondi, far finta di niente, girarsi in un'altra parte e fare in modo che certi ideali che si dicevano non negoziabili, nelle tenebre dove c'è buio diventino molto, molto, molto più negoziabili. Questo è quindi tutto ciò che riesco a dirvi, ma abbiamo tagliato ore e ore di cose con cui avrei potuto ammorbarvi. Da come sia potuto accadere quanto accaduto, agli equilibri politici d'Israele, dalle scelte di Netanyahu, all'incapacità dei suoi oppositori politici, dalle tensioni tra Hamas e Fatah, a dei reali approfondimenti su come sia stata nell'ultima decada della vita nella striscia e anche quando effettivamente desensibilizzati siamo diventati alle questioni israelo-palestinesi. Tanto che io stesso all'inizio non ho capito il volume di quanto stesse accadendo e ho accolto molto tiepidamente le prime informazioni che arrivavano circa ai primi morti al confine con Gaza. Tutto questo non ci sta, ma avremo tempo eventualmente di approfondire in futuro, cercando anche di ricordarci che non è una gara, non è uno sport. E di nuovo, dal punto di vista generale, tutti hanno torto al loro modo, ma quando scendi nel particolare tu ti ritengono, giustamente e comprensibilmente, di avere ragione.